Voi dite di che colore sono le nuvole? No! No! A Ponte Buriano è tornato il laboratorio artistico dedicato alla pittura presentato da Pontemporanea. Le nuvole e le foglie sono grandi, ma loro non sono due grandi, ma sono due punti più chiari e più scuri. Si tratta del terzo appuntamento che come sempre ha avuto come protagonisti i bambini. Siamo molto contenti e soddisfatti perché i bambini hanno dimostrato grande soddisfazione nei quadri che loro stessi hanno realizzato. Assieme più piccoli i maestri d'arte Renzo Regoli e Alessandro Marrone. Loro vedono il mondo con occhi liberi da qualsiasi cosa, però dargli gli strumenti per mescolare colori e riportare quello che vedono è fondamentale perché così loro crescono in una direzione positiva. I bambini sono l'humus del mondo per cui bisognerebbe che sviluppassero tutta la loro fantasia e con i colori stiamo raggiungendo queste piccole poche lezioni qualcosa di veramente eccellente.